39 anni di onorato servizio a Gela, prima come vigilo urbano e poi pian piano la carriera in questi decenni. Se dovesse tracciare un bilancio di questi decenni, che bilancio sarebbe? Il bilancio è meraviglioso perché io mi ricordo quando sono entrato a 23 anni, nel 77, ci siamo trovati alle forze fresche, una città tranquilla, una città che aveva i suoi lati di ricostruzione ambosia, il periodo proprio quando c'è fu il boom di ricostruzione ambosia. Lavoravamo fianco a fianco tutti noi giovani con gli anziani, con il cuore, perché abbiamo fatto un concorso, ci siamo trovati con questa meravigliosa divisa in questa grande famiglia, tutti con il cuore in mano. Il benessere ha fatto maturare nelle persone quella indisciplinatezza, quella voglia di essere spregiudicati che si è evoluta proprio quando c'è stata la guerra di mafia, che ci siamo trovati malamente qua a Gela, storditi da queste situazioni. Niente, diciamo noi come quando possiamo ricipare, quello era un periodo in cui andavamo scevando come personale e cercavamo ancora i nostri diritti come pubblica sicurezza. Paradossalmente eravate meno numericamente, però erano gli anni invece in cui serviva il controllo del territorio, era davvero necessario. Eravamo diciamo non più gli 80 iniziali, ma sulla 50, però si aspettavano sempre i concorsi, si aspettavano certi diritti magari che ancora era il periodo che facevamo noi le lotte sindacali andando anche a Plermo per essere riconosciuti come, perché noi eravamo agenti di PS allora. Adesso che lei è in pensione, da oggi che cosa farà? Adesso sarò un nonno a tutti gli effetti e poi ho altri viaggetti da fare, anche perché c'è mio figlio, il piccolo, che sta facendo il corso di marciallo della finanza all'Aquila e quindi sarò costretto, diciamo, per evitare di farlo scendere sempre, di tanto in tanto saliremo via mia moglie andando all'altro, quindi sarò impegnato sotto questo punto di vista. E se dal comando dovessero chiamarla per qualche consiglio, lei che cosa risponderà? No, io ho detto se parezza, a disposizione. Auguri. Grazie.